Con Super Sabbia l'estate non finisce mai! Divertiti a casa come in spiaggia! Con la sabbia colorata crea tutte le forme che vuoi! Non sporca ed è facile da riordinare! In ogni confezione la sabbia e tre formine! Super Sabbia! La trovi solo in edicola a 2,50€! È un prodotto ZABAM!